Servizi garantiti nonostante la carenza di personale, nonostante le ridotte possibilità finanziarie, nonostante tutto. Il distretto sanitario 60 di Nocera Inferiore sta affrontando senza particolari patemi d'animo l'ennesima estate che per molti è sinonimo di emergenza sotto l'aspetto dei servizi sanitari. Con le ferie obbligatorie ovviamente diminuita la presenza di personale allo sportello, con annessa riduzione delle giornate di apertura al pubblico, ma tutto procede senza intoppi, ci ha accennato il direttore responsabile Gianluigi Ferrigno. Gli sguidi estivi non ce ne sono, abbiamo però dovuto ridurre le giornate di apertura degli sportelli al pubblico perché il personale non c'era, chiaramente per le ferie obbligatorie da fare, quindi abbiamo però garantito tutte le prestazioni che facevamo durante l'inverno per capirci, sono garantite assolutamente anche nei mesi di luglio, agosto e così via, però in modo ridotto, cioè gli sportelli sono aperti due mattine e un pomeriggio invece che tutte le mattine e due pomeriggi, però d'altra parte non ci sono particolari urgenze, anche perché fortunatamente c'è per il CUP, c'è per le prenotazioni, il numero unico centralizzato e le stesse prenotazioni, anche il pagamento del ticket, si possono fare gratuitamente nelle farmacie. L'unica vera criticità per il distretto è legato ai servizi per l'infanzia, in particolare per i bambini con problemi neuropsichiatrici, pochi gli operatori disponibili con conseguente disagio per gli interventi richiesti. Abbiamo soltanto qualche lungaggine sulla neuropsichiatria infantile perché abbiamo solo due specialiste e una delle due non ha tutte le ore complete, questo ci penalizza, ci stanno purtroppo un grandissimo numero di bambini che hanno bisogno di queste visite specialiste, questa è una cosa molto grave e l'avevamo già notato facendo le commissioni di invalidità civile e del sostegno scolastico, dovevamo una vera e propria quantità enorme di famiglie interessate a questi problemi, molto gravi. Invece per quanto riguarda la parte amministrativa, cioè di CUP, esenzione, rinnovo ticket e quant'altro, non abbiamo particolari esigenze.